Good morning, berlini. Allora parlo di più cose, più cose, non vediamo, due o tre mini. Allora iniziamo col Barat. Noi abbiamo fatto l'evento con una data indicativa, sapendo che non poteva essere già da mesi, il 25 aprile. C'è l'evento su Facebook, mi raccomando, eccolo qui, vado alla pagina Il Barat su Facebook e c'è l'evento. Mettete il parteciperò o interessa, siamo già 220 persone che partecipano, ma non lo sapeva quasi nessuno, adesso ve lo faccio ufficiale. Cambiamo la data ovviamente, mettiamo sempre indicativa sabato 20, domenica 21 giugno, se non ci fanno riunire vediamo come possiamo riunirci. Cerchiamo di provarci, poi la tiriamo, se questi la tirano per mesi, anni, a questo punto faremo una presentazione online. Ho visto il portale, è stupendo, però ancora non è operativo, ci stanno lavorando i ragazzi, ci stiamo lavorando, come non mi stanco mai di dirvi. Oltre tutto quello che faccio, io lavoro pure, per quanto la mia partecipata a livello tecnico è minore, ma abbiamo gente che è tutto gratis, come sapete. Per chi non sa cosa è il Barat, si informa, tanto c'è tutto, sì, è nei miei canali. Cercheremo di convolgere, che sia a livello governativo, regionale e comunale, perché ci devono, non dico dare una mano, non abbiamo bisogno di questo, ma non ci devono intralciare. Perché se allora, scusate, in una situazione del genere, di assistenza tra noi, legale, con la Ollus registrata e tutto, di scambio lavoro, ma anche scambio beni con le cose di lavoro. Per esempio, un'ora di Baratti lavoro, la puoi scambiare con un vecchio telefonino, per dire, no, qualunque cosa. Comunque tutte le specifiche ve le farò, questo non è il video sul Baratti, è solo per anticipare il discorso dell'evento. Se voi mettete parteciperò in tanti, con data, noi mettiamo 20-21, ma, giugno, ma, poi quando ci presenteremo nel discorso, noi dobbiamo fare un evento, siamo migliaia di persone, che sia adesso pure online, siamo migliaia di persone, dentro un'associazione, poi vi dirò le iscrizioni, come si fa, quando presenterò il portale. Quindi questo era solo per dirvi, mettete il parteciperò, o l'interessa, perché ci dà forza. Una volta dicevo, il simbolo del Barazzo, le due mani, la scritta Barazzo, le due mani è così, ma abbiamo un vessillo da guerra, da guerra io a quei tempi che non c'era coronavirus, niente, dicevo, non facciamo politica, ma se metteranno delle leggi assurde, noi come associazione, tutti in blocco, ci opponiamo, e se fossimo stati già tanti, allora, ma quando cominciavano queste cose, il coronavirus, potevamo pure dire la nostra. Comunque, andiamo avanti lo stesso, c'è la parte dell'associazione culturale, per adesso c'è il mio canale, chiunque ha dei canali, delle cose culturali, se ci si può inserire benissimo, è uno scambio, come sapete, senza nessun coso di soldi. Mi è stata regalata un'intera biblioteca esoterica, ho una signora che ha voluto rimanere anonima, mi ha detto Luigi, mi scrive qui su Facebook sempre la mattina, mi ha detto che voglio rimanere anonima, poi ho chiamato un'amica di Roma, gliel'ho fatta andare a prendere, gli sono stupendi, ma non so come fare per farvi girare, farevi un punto, non lo so, abbiamo anche questo nell'associazione culturale, e cammina parallela allo scambio lavoro, specie in questo periodo perché cominciamo a fare gruppo con un'associazione e mettiamo lo zoccolo pure per parlare della situazione e agire in qualche modo con la situazione che stiamo vivendo. Quindi credo che sia la prima cosa, veramente, anche se ci stiamo a lavorare da un anno e mezzo o di più, è che possiamo entrare in qualcosa che sia pure virtuale, non fa niente all'inizio, basta che siamo un'associazione forte. E qui chiudo il discorso, spero di non dimenticarvi, vi faccio vedere il portale, vi dicevo. Adesso andiamo a vedere un attimino in Germania le regole. Noi, quando vi dico siamo più liberi di qua di là, ma è un'apparenza. Dici, vabbè, magari, vabbè, ma a prescindere da queste cose. È un'apparenza perché le leggi che stanno qui sono... Voi ve le metto tutte le leggi, ve le studiate bene, e poi me le confrontate con quelle italiane. Vi faccio vedere una cosa, questa ve la metto lunghissima, questa qui. Scusate che vado un attimino dietro, la testa. Ok, ve la metto tutte per le studiate così le affrontate, no? Questa è proprio la pagina ufficiale di Berlino, del land di Berlino. Misure, contenimento, regole generali, industrie, commercio, è tutto scritto, e le potete paragonare a quelle italiane. Ok? Vedete, in turco, in russo, in inglese, in arabo, in spagnolo, in romeno. E ci sono tutte le, guardate qui, ordinanza, articolo, modifica dell'ordinanza sulle misure di contenimento. E questo è la gente, come mi aveva scritto ieri. Io ieri vi ho detto, no, per il solo fatto delle distanze, che è l'unica cosa che noi subiamo a livello fisico, perché poi queste qui ci sono, e sono dal 21 marzo, dovrebbero concludersi il 10 maggio, vedi, un metro e mezzo di distanza. Ciò non vale per i conici o i conici o i membri del proprio, o per le persone, per qualsiasi diritto di affidamento e di vista, o comunque puoi stare con una persona. Anyway, quello che vi volevo far vedere, molto pericolosissimo, e non so se in Italia lo avete questo. Vedi, c'è tutto, l'orto botanico, menze, tutto. È interessante che vi fate una cultura pure. Trasmissioni dati, mantenimento della validità della legge tedesca, la protezione delle infezioni. Quello che vi anticipavo ieri. Qui, per le persone che si trovano in qua, e qui una cosa allucinante, attenzione. limite dei diritti fondamentali, tale ordinanza limita i diritti fondamentali della libertà individuale, articolo 1,2, seconda parola della Costituzione. Non è stata modificata, è stata sospesa. La libertà di circolazione, articolo 11, l'inviolabilità dell'abitazione, articolo 13, la libertà di riunione. Questi ti possono ne apprendere a casa, adesso, almeno fino al 10 maggio. E' entrato in vigore, 21 aprile. Ok, e questo è uno. L'altro invece, che vi voglio far vedere, perché è interessante che, come si dice, ci informiamo su tutto. L'altro è questo. Scusate un attimino, è il tempo di arrivarci. Eccolo qui. No, è un pezzo di quello, è un estratto di tutto quello. Quello è molto completo, vedetevi quello. Mentre io mi sono andato a informare per la Svezia, perché mi interessa questo rischio. Alla fine scappiamola tutti. Comunque io ho sempre, un anetico, ho sempre, già anni fa, sentivo a livello proprio esoterico, che sarei finito là. Mi sarebbe piaciuto. Vabbè, comunque, chiudiamo il discorso. In pratica, la situazione in Svezia, puoi andare nei bar, puoi stare seduto, ma anzi, devi stare solo seduto nei locali. Puoi fare assemblamento di persone, ma non superiore a 50. Solo gli anziani sono consigliati di stare a casa e non di vedersi con i picchi. Il governo di Vedece sta lavorando insieme agli organi competenti per ridurre il rischio di contagio del Covid-19. A questo proposito, l'esercutivo ha comunicato che gli assembramenti con più di 50 persone sono vietati. Quindi si può sapere. Inoltre, non è possibile visitare gli anziani nelle case di riposo, poiché individui fondamenti al rischio, fino ad ora, poi vi dico perché vi leggo questo, asili, scuole, elementari e medie rimangono operativi, mentre scuole superiori e università sono passate all'apprendimento a distanza, o e-learning. È in corso una grossa campagna di informazione su molti canali tv, elittenti radiofonici, giornali stampati, riviste online, siti ufficiali delle autorità competenti, alla fine di sensibilizzare la popolazione in merito alle norme igieniche, personali, vabbè, solitamente. La protezione civile ha comunicato che sul proprio sito sono disponibili, ma vabbè, raccomandazioni dell'autorità, lo scrivo in descrizione tutto questo, e vi metto pure il link ufficiale del governo svedese. E poi sembra che c'è qualcuno che mi scrive che sta in Svezio Italiano, ogni tanto mi viene uguale, magari interviene, conferma o aggiunge qualcosa. Allora, rimane a casa anche solo per un raffreddore. In un comunicato di venerdì 3 aprile 2020, il ministro degli esteri consiglia di astenersi da viaggi non necessari fino al 15 giugno. Dopo questa data verranno comunicate altre decisioni. Infine il governo ha imposto l'obbligo di garantire i collegamenti aerei con il nord del paese e l'isola di Gotland. In Svezia l'Istituto Sanitario della Sanità Pubblica Svedese monitora costantemente l'evolvere della situazione, va bene. I viaggi in Italia sono sconsigliati. E vi metto il link. E adesso passiamo. Che sta a succedere? Cioè, qui sta a succedere una cosa gravissima. Abbiamo provato a dire ragazzi, cerchiamo di uscire pacificamente, mancano uno. Quei pochi sono usciti i massacrati perché sono usciti proprio da matto. Quindi, niente, si deve ripartire da capo. Qua si deve riformare le coscienze. Da capo bisogna far capire alla gente che sta a succedere, dove stiamo andando, perché qui ancora, nonostante questi passati nel termine risvegliati, nel senso che hanno capito che non è il vino, mascherina, ma questi stanno aspettando che prima o poi passano, oppa, passerà. e chi fa il sangue, il vaccino. No! Questi porteranno la distanza forever. Le app puntano l'ira, basta che, però funzionano, basta che ce l'ha il 60% della popolazione. Si presume che chi c'ha il 40% magari sa, non penso, secondo me bastano quel 60% per indabbiare poi pure quel 40% nel senso sei passato là, sei uscito di telecamera, non si sa qua che stiamo andando a finire. Questo è il problema. Io mi aspetto tra settembre e ottobre, forse anche novembre, ora comincio poco a allentare, qua un po' di più, da voi di meno, ma magari con l'estate, e di botta tra settembre e novembre all'unisono in tutti i paesi del mondo, o di Gesù, ma c'è un macello, uno ancora non si rende qua, all'unisono in tutti i paesi è scatto con offensiva, tutta a casa, quell'altra, ti metti alla casa, tu vai lì, la quarantena non lo puoi fare, non si sa che ci succede all'umanità. Non sono catastrofista, lo spero tanto, però a me mi preoccupa questo, e come fai a vivere, forse anche arrancando un po' così, ci dà più libertà adesso, ma sempre cosa, sapendo che ci aspetto una cosa del genere, non puoi programmare niente, non puoi fare niente, non puoi, quindi sono pessimista molto, anche se sono pessimista da settembre in poi, perché da adesso in poi Conte non si sa che va dicendo, come io vi dissi nell'altro video, è inutile che non mi dici no, la fase 2 ora riapriamo a Milano un parco lì, quello significa che non ha riaperto, perché, faccio un paradosso, però è molto interessante, se io vivo, che ne so, a Milano, per esempio, e riapriamo tutti i parchi tranne quelli a Milano, io, milanese, no, non mi avete, non avete riaperto i parchi, il parco è per cui c'è la sotto casa, se tu me lo tieni chiuso e apri tutti gli altri, per me rimane chiuso, quindi lui dice no, a secondo del governatore e del sindaco della regione, allora, nella campagna possiamo seppellirci tutti, perché De Luca è un pazzo le gare, non riapre niente, cioè ci affidiamo a quel governatore e comando, c'è roba assurda, deve fare i decreti o le cose o le sblocco o le mette per il paese, è inutile che ognuno si fa come si pare, perché se no, non è, allora ritorniamo al Gran Ducato di Parma, a regnere due Sicili, al papato, rimetteteci in quelle coppie, perché così sta succedendo, ormai siamo qui, non è più statale, ma regionale e addirittura a volte comunale, non può essere, comunque questi sono tutti i discorsi che non posso, quello che deve preoccupare è dove stanno puntando, il vaccino non ci sarà mai, anzi, perché se metti il vaccino come ho detto in altri video poi finita tutta sta farsa, che senso avrebbe avuto? No, di distanza, di cose, allora questi, metti il vaccino, ma devi mantenere le distanze, perché questo virus muta, quindi ti devi fare il vaccino, però devi mantenere le distanze, perché insieme a mai quello li muta e dopo tu anche se sei vaccino, questi si inventano pure le assurdità, tutte assurdità, o l'80% con giustificazioni assurde l'hanno fatto e non mi meraviglierei se fanno questo, quindi dove puntano? Questa è la prima domanda, dove vogliono arrivare? A tenerci a distanza a vita, a vaccinarci, a tenerci a distanza a vita, basta questo, gli basta o andiamo oltre? O in questa prima fase, non del governo italiano, io adesso parlo di fase dell'umanità, questa è la prima fase dell'umanità, poi ogni paese se la gestisce in base, io feci un vecchio video una volta che parlavamo proprio di come agiscono nella politica, in Germania agiscono in un modo, in Italia in un altro, ma il fine è sempre lo stesso, solo in base, come si dice, ognuno conosce i suoi polli, da noi, si dice, proprio così, quindi in base alle problematiche la cultura del paese agisce, ma il fine è sempre quello, e stiamo andando tutti là, l'umanità, quindi non mi venite a dire quelli tedeschi, francesi, inglesi, io mi trovo qua, bloccato qua, se devo lottare in piazza, lotto qua con i berlinesi, se stavo in Monsambico, lottavo, se stavo in Italia, ma non è più, ormai siamo tutta l'umanità sotto questo qua, tra parenti, mi scordo, vi ho letto questa cosa svedese, perché addirittura svedese pare che non è successo, ma lo vede che però aleggia sempre, perché quando ottobre, novembre, boom, faranno quello, faranno all'unisono, e non ci faranno capire niente, come hanno fatto con la Lombardia, uno sta, ma è venuto uno, è venuto un cinese, un imprenditore, è andato a cena, paziente zero, ma poi, uno dice, ma ti botta la Lombardia chiusa, no, un momento, scappati dalla Lombardia, è chiuso tutto il paese, poi è stato a casa, con un secondo, perché la gente non si rendeva conto, e così farà la seconda fase, la seconda ondata, la seconda ondata, che tutti sanno che arriva, guarda qui, è una follia, le ambulanze che va a girare in avvuoto, per tenere alta, per giustificare questo, e per tenere alta poi la cosa, gli ospedali, non ci puoi andare all'ospedale, non ti dicono gli ospedali, qua non ci sono mai potuti entrare, se uno ha un po' di febbre, o ha paura che c'è il coronavirus, chiama l'ambulanza, e ti dice, state alla casa, se noi infetti il pronto soccorso, devi chiudere l'ospedale, quindi, noi dobbiamo adesso capire, due fasi, due cose, che mi interessava a sto video, la prima è, il baratt, a sto punto, pure chi non lo voleva fare, per disperazione, vedo un po', ora cercherò di muovermi bene, ora vi presenterò il portale, con tutto spiegato, poi gioco le app, col telefono, si scambia lavoro, il lavoro si può scambiare, nel senso, se vi si roba un tubo, dell'idraulico a casa, lasciamo perderemo il baratt, che fanno un buon venile idraulico, viene, magari sta a distanza, e se no come fa uno? quindi, e se no ne lo faranno fare, quindi non è un rispettante, come tutte le cose, i discorsi, poi stavo scrivendo l'altra volta, il sindaco di Venezia, che, no, mi sono rotto il cavolo, ora riapriamo, mi devono dire, di riaprire il bar, anche uno alla volta, cioè, questa è campagna elettorale, lui sa perfettamente, che adesso ci sarà questa apertura, per esempio, uno alla volta, e lui pretende quello, però dice, ma a me non mi hanno detto niente, questi stanno in campagna elettorale, vogliono cavalcare questo, dai politici, non possiamo aspettarci, più niente, l'unico, ma, figurati, non lo dico, assolutamente, solo più simpatia, nel senso che, non è mai stato un politico, sgarbi, perché ha dimostrato, che lui, quando proprio, non poteva dire niente, ha parlato, poi l'hanno zittito, vi ricordo, agli albori, gli altri stanno uscendo tutti, si muovono, l'altro straccia i cosi in Parlamento, grazie, ma non avete l'elastico che si allenta, ve lo cavalcate, con questo non voglio dare addosso a qualcuno che comincia a dire qualcosa, figuriamoci, ma, che è sempre meglio di quelli che stanno, questo sì, ma non vi illudete, non vi illudete, questo è un programma mondiale, non c'è nessun politico, tedesco per la Germania, italiano per l'Italia, svedese per la Svezia, che possa influire, poi c'è tutto il cordone, quello di sotto bosco, e lì è tutto un ciucciu, ma il dunque non si raggiungerà mai, se vogliamo veramente fare qualcosa, allora, mi raccomando, scriviamoci, scriviamoci, mettete il parteciperò, così io, quando mi dovrò presentare, a un comune, a qualcosa, vi dico guardate, qui c'è una forza, non potete negare, l'assistenza tra noi, non potete chiudere la, passatemi il termine, la croce rossa, anzi, la dovete, la dovete, come si dice, aiutare a svilupparsi, di lì faremo appunto, come era già in programma, l'associazione culturale, ho chiesto il 19, vabbè ragazzi, oggi il video era questo, mi raccomando, non andiamo verso una, sì, un po' allentano, ma cominciate a pensare a un futuro nero, perché ci dobbiamo cominciare a preparare, almeno dentro di noi, che gli dèi ci proteggano, sull'e, 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 sull'e.